Buon pomeriggio a tutti. Osti, sono te molti. Siamo diversi. Lavoriamo in posti che possono essere anche molto lontani. Abbiamo gusti differenti. Abitudini differenti. Facciamo anche lavori diversi. Siamo ingegneri. Tecnici. Designer. Meccanico. In posti diversi. Non sono geografico. Ma anche operativamente. Ma c'è comune la passione per il nostro lavoro. E il senso di appartenenza a un'unica grande azienda. Un'azienda che ci supporta. Cioè ci fa crescere. In un'unica direzione. Verso un mondo più pulito e più sostenibile di oggi. Più che mai. Dobbiamo sentirci vicini. Apriamo uno dei ciali altri. Perché siamo parte di qualcosa di più grande. Noi siamo Erg. Noi siamo Erg. Noi siamo Erg. Noi siamo Erg. Suntem Erg. Noi siamo 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 Erg. Grazie a tutti.